Siamo alla vigilia di una riorganizzazione del territorio e in particolare dei servizi per le malattie croniche. La regione ci ha dato degli obiettivi, quindi dovrebbe essere le malattie diabetiche, malattie respiratorie, cardiovascolari e l'ipertensione. E quindi tra queste nella malattia diabetica noi prevediamo di passare attraverso alcune fasi, cioè la prima nella individuazione proprio dei pazienti. Questo lo possiamo fare attraverso i fuzzi amministrativi che ci dicono chi sta consumando risorse in queste aree terapeutiche, utilizzando anche degli algoritmi che ci ha messo a disposizione l'Agenas. Dopo, secondo passaggio, il lavoro con i medici di medicina generale, al fine di chiamare queste persone, cioè passare ad una medicina di iniziativa e non fermarsi alla sola medicina d'attesa. Una volta individuati e chiamati questi pazienti, arrivare proprio alla diagnosi e anche alla stratificazione del rischio per quella che può essere la complicanza a breve o a medio termine del diabete stesso e quindi una condivisione sul percorso terapeutico con lo specialista, dopodiché il passaggio in cura nella medicina generale, dove ritengo che ci debba essere un ruolo altrettanto importante da parte degli infermieri. Noi stiamo lavorando molto per far entrare nei team di medici di medicina generale personale infermieristico che, oltre a dare un supporto nell'individuazione del paziente, deve dare un supporto nell'accompagnare questo paziente nel percorso di malattia che è caratterizzato dal fare la terapia, fare i controlli, sapere quali sono i segni dell'arma, ma anche saper fare bene delle cose che possono giovare alla salute, come l'attività fisica o una dieta diciamo adeguata al bisogno. Il tutto in attesa delle ulteriori morbidità che ci saranno, perché purtroppo con il passare del tempo da una malattia cronica probabilmente ne avremo due, tre e conseguentemente anche il lavoro sarà sempre più complesso. Per quanto riguarda gli strumenti terapeutici, ormai tutti questi farmaci dell'area terapeutica collegata appunto al diabete sono abbastanza solidi, quindi sicuramente la competenza può passare al medico di medicina generale, però attraverso forse un ulteriore rafforzamento delle competenze, in particolare di chi è stato orientato a seguire in maniera più approfondita altri settori delle patologie. Da punto di vista dei costi, bisogna dire che siamo molto attenti ai farmaci, ma dobbiamo stare più attenti ai dispositivi, conseguentemente vedere effettivamente quale è il prezzo giusto per monitorare a casa, anche con sistemi avanzati, di telemedicina appunto alla malattia stessa e renderli compatibili con quelle che sono le risorse che la ASL ha a disposizione. Da questo può nascere una sinergia che può portare a degli indicatori di esito che sicuramente potranno essere rilevati nel tempo e potranno darci la bontà, altrimenti bisogna ricominciare il ciclo.